Il deputato del PD Luigi Lacquaniti ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sul decesso del giornalista Raipino Anfuso, avvenuto il 28 maggio scorso in circostanze poco chiare. La Lacquaniti, nell'atto parlamentare, chiede quali iniziative il Ministro intende assumere per far luce sulla grave vicenda che ha visto come conseguenza il decesso dell'operatore, pur nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura a cui sono affidate le indagini. Penso sia doveroso, scrive il deputato Dem, individuare responsabilità ed eventuali negligenze, sia per restituire giustizia alla vittima e dalla famiglia, sia per scongiurare altri casi di mala sanità. Brutta avventura per una turista in vacanza a San Nicola Arcella che ha rischiato di annegare vicino alla grotta dell'Arcomagno. La 79enne di origini toscane avrebbe avuto un malore mentre faceva il bagno. Tempestivi soccorsi di alcuni bagnanti che l'hanno portata a riva sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportata nel centro di assistenza di Praia Mare dove ha ricevuto le prime cure. La donna, che non è in pericolo di vita, è stata poi trasferita in elicottero all'ospedale di Cosenza. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3.07 nel nord-est della provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro 24 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Albidona, Trebisacce, Amendolare, Platace e Castroreggio. La scossa non ha causato danni a cose o persone. È stata sequestrata la scorsa notte dalla Capitaneria di Porto di Catania a largo delle coste del compartimento marittimo di Vibo una rete derivante irregolare della lunghezza di circa 2 km che un motopesca della marineria siciliana stava utilizzando in zone e tempi non consentiti. Il pescato recuperato all'interno della rete è stato anch'esso posto sotto sequestro e giudicato idoneo al consumo umano dal veterinario di turno dell'ASP di Vibo è stato devoluto in beneficenza in favore di un istituto caritatevole di Mileto. Nei confronti del comandante del motopesca sono state elevate sanzioni per un totale di 4.000 euro oltre alla successiva applicazione di sanzioni e accessoria sulla licenza di pesca. Sono oltre 10 km di reti sequestrate dall'inizio dell'anno ad opera dei militari della Guardia Costiera impegnati in attività di vigilanza delle acque nel compartimento marittimo di Vibo Valencia Marina.